Giorno ventitresimo ragazzi, facciamo copy trading insieme a questa serie che vi sta appassionando Strana giornata ieri, abbiamo fatto solo 3 dollari Vedete siamo sul future, ci eravamo lasciati con 355 dollari ieri E oggi ne abbiamo, mi sono appena collegato, abbiamo 358 USDT Andiamo a vedere che cosa è successo, probabilmente il trader ha aperto poche operazioni Forse le impostazioni che ho messo non andavano bene Ho limitato il mio trader perché gli ho aumentato il budget Ma forse ho sbagliato la size delle operazioni Quindi adesso la andiamo ad abbassare un po' Andiamo intanto a vedere che cosa è successo ieri Ecco vedete siamo sulla cronologia 23 febbraio, solo due operazioni Una con più 2 USDT e una con 10 USDT Che se vai a calcolare le fee e vai a calcolare la percentuale che prende il trader il 10% Ci sono rimasti 3 USDT e c'è andata anche di lusso Potevamo chiudere in profitto e perdere Perché pagare di più di costi Ma in realtà siamo più 3 USDT Quindi andiamo a vedere le impostazioni del trader su il mio operatore Andiamo su modifica, star picking Tra l'altro qualcuno di voi mi ha scritto che star picking ha anche altri account dove ha delle posizioni aperte in rosso Io per il momento lo tengo Considerate che faccio video tutti i giorni su praticamente questa serie Documento diciamo il copy trading che faccio sulle crypto con BitGet Piattaforma pazzesca per fare copy trading e poter diciamo guadagnare passivamente Anche con piccoli importi perché comunque i trader hanno leve alte per come l'ho imposto io Poi ragazzi io testimone della mia esperienza non sono né un trader né un consulente finanziario Fate le vostre ricerche perché si perdono soldi Quindi ok vedete io qui ho messo 140 USDT ma faccio 100 USDT adesso ok Bitcoin e Ethereum 100 USDT e poi mettiamo follow massimo 175 Perché gli avevo alzato il budget chi mi segue dall'inizio lo sa vi lascio la serie Per chi si è perso tutte le puntate c'è la playlist qui di facciamo copy trading insieme la serie Trovate la playlist in home page anche a questo canale YouTube e qui nelle schede Ero partito con 200 USDT E siamo a 300 comunque 58 aspetta che aggiorno 358 dollari dopo 23 giorni Completamente passivi non è male solo che ieri ho deciso di dare visto che comunque le cose vanno bene Di dare più budget al trader e quindi gli ho messo follow massimo 175 e gli avevo messo ad operazione 140 Però evidentemente non apre tutte le operazioni In questo settaggio gli ha fatto aprire solo due operazioni di solito ne apriva 4 quindi abbassiamo a 100 Clicchiamo sul successivo quindi BTC 100 USDT in portofisso massimo 175 Quindi magari aprirà due operazioni una da 100 una da 75 Stessa cosa su ethereum facciamo conferma ok abbiamo fatto conferma quindi staremo a vedere Considerate che io faccio video tutti i giorni quindi iscrivetevi al canale tranne nel weekend Però questo weekend sono fuori un mega evento top secret no vabbè si può dire Con BitGet mi hanno invitato a Torino Bellissimo faremo il giro dello stadio ci saranno i giocatori della Juventus perché BitGet è sponsor della Juventus Tornerò lunedì sera quindi il video Il prossimo video su questa serie uscirà martedì e vedremo che cosa sarà successo Sabato domenica e lunedì vedremo quanto avrò guadagnato o quanto avrò perso Iscrivetevi al canale per saperlo e non perdere i prossimi video Vi ricordo che se volete fare anche voi copy trading trovate il link in descrizione Usate il mio link che trovate in descrizione perché avete lo sconto del 10% delle fee Lo avete visto con 12 USDT guadagnati ne sono arrivati 3 Perché abbiamo pagato le fee abbiamo pagato il 10% al trader quindi è importante abbattere i costi Quindi 10% di sconto a vita sulle fee usate il mio link lo trovate in descrizione E poi c'è il bonus vi ritornano fino a 100 USDT indietro di bonus trading Ovvero il 10% di quello che depositate vi ritorna indietro fino a un massimo di 100 USDT Quindi se depositate 1000 avete il massimo se depositate 500 avete 50 USDT E siccome io ho iniziato facendo copy trading con 200 USDT Ovviamente avere 100 USDT 50 USDT di bonus vi permette appunto di lavorare anche senza spendere niente Cioè soltanto con il bonus quindi in descrizione c'è il link per iscrivervi Poi se siete nuovi in descrizione vi lascio anche dei video tutorial su BitGet Come registrarsi come comprare gli USDT come metterli sul conto future spostare dal conto spot Tutte le cose tecniche trovate anche i video Più di questo non so che dirvi Andiamo quindi su asset ci lasciamo oggi 23esimo giorno sul conto future con 358 dollari Ieri abbiamo guadagnato 3 dollari cifre da capogiro Ho modificato la size quindi abbiamo 350 USDT di budget per il nostro trader Affidate al nostro trader divisi in 175 per Bitcoin e 175 per Ethereum E size massima 100 quindi magari aprirà un'operazione da 100 un'operazione da 70 Vedremo speriamo che rifarà diciamo operazioni da 4 operazioni e che si possa diciamo un po' incrementare i guadagni Vedremo martedì ci vediamo perché lunedì non ci sono Martedì ci vediamo con appunto il resoconto del weekend più il lunedì Sarà molto interessante sarà il giorno 6 oggi il 23esimo 24 sabato 25 domenica 26 Oggi è 23 domani 24 25 domenica 26 giorno 27esimo Martedì vedremo quanto avremo guadagnato Completamente passivo ragazzi il copitale di mi piace però bisogna stare attenti E' importante trovare il trader giusto settarlo bene capire anche in che momento stiamo Trovare il giusto periodo per seguirlo il segreto è trovare un trader che sta performando bene e seguirlo E impostare il budget in modo che se quando arriva la giornata storta poi noi non bruciamo tutto Comunque ho fatto un sacco di video iscrivete al canale guardati i video su Bitget sul copy trading Li trovi nel canale anche in descrizione Iscriviti con il mio link se vuoi provare E hai così 100 USDT di bonus massimo E hai lo sconto sulle file del 10% Ovviamente prova, prendi il bonus, sperimenta, non mettere tutto, non mettere una cifra che è troppo impegnativa per te Inizia con un piccolo budget che sei disposto a perdere Io veramente vi ispiro, vi faccio vedere tante cose su questo canale YouTube Però dovete ragionare con la vostra testa E' solo la mia esperienza che condivido e magari potete imparare dalla mia esperienza Però, ecco, sfruttate quello che vi faccio vedere per non fare i miei errori Ok? Quindi imparate, guardate i video Ma poi pensate con la vostra testa perché non sono consigli finanziari Mi raccomando ragazzi, ci vediamo martedì Buon fine settimana Iscrivetevi al canale E buon proseguimento Ciao